Musica Buonasera al pubblico di Oresini TV Quest'oggi abbiamo preparato la seppia in porchetta sporca col proprio fegato, cotta alla braccia insieme alla bietola, salsa al nero di seppia, polvere di porchetta e salsa al finocchietto Questo piatto ricorda appunto il mare adriatico in contrasto con le colline adriatiche, quindi col sapore di finocchietto il ricordo della porchetta che si utilizza nelle nostre tradizioni contadine Quindi abbiamo creato un mix di territorialità che ci dà un sapore unico, quindi le origini contadine con il sapore del mare Questo mix secondo me dà un connubio perfetto Vi invito a provare questo piatto e venire ad assaggiare presso il nostro ristorante Seppia sporca in porchetta con bietole alla braccia e polvere di porchetta Musica Musica